Con la sottoscrizione del contratto preliminare di cessione delle aree, firmato dal governatore Luca Zaia, dal sindaco di Venezia Giorgio Orsoni e dalla di Dieni Paolo Scaroni, 110 ettari di terreni passano dalle mani di Sindia alla quelle di una nuova società formata da Regione Comune, che li rimetterà sul mercato per favorire la reindustrializzazione di Porto Marghera. Un obiettivo inseguito per anni e che ora, secondo Zaia, è finalmente a portata di mano. Sono già i primi 50 ettari per quelle imprese che ci chiedono di poter entrare in un territorio che è unico per l'industria. Ha il ferro, quindi ha l'intermodalità con la rotaia, la logistica in generale, il porto e ovviamente tutti quei servizi tipici di zone industriali di alto livello. Sono felice di contribuire a un progetto a cui ho sempre tenuto molto, fin da quando era presidente degli industriali veneziani, commenta Scaroni. Questa è la miglior risposta a chi sbagliando voleva prati fioriti al posto delle industrie. Il governatore concorda. Questa è la vera via per recuperare posti di lavoro. Non possiamo pensare che Marghera ponga come soluzione quella di realizzare un campo da golf o un parco giochi. Qui ci vogliono fabbriche, ci vuole industrie, ci vuole ovviamente realtà produttive che non inquinino. L'avevamo detto in campagna elettorale, ora lo stiamo facendo, chiosa Orsoni. Nonostante le difficoltà avute, finora il rilancio dell'industria a Marghera sta finalmente per concretizzarsi. Ci sono molti investitori che si sono fatti vivi sia con la regione sia con noi e al più presto attiveremo le procedure per rendere concreta questa operazione. I nuovi posti di lavoro, rassicura il sindaco, potranno essere utilizzati anche per il reimpiego dei molti operai della zona rimasti disoccupati negli ultimi anni. Quelli che sono oggi ancora inabili a questo tipo di lavori potranno essere recuperati perché la cultura del lavoro in questi luoghi è sempre stata molto forte.